Concessione d'uso degli immobili di proprietà comunale alle associazioni che operano nel mondo del volontariato. Il Comune di Mesagna ha approvato l'avviso per effettuare un'indagine esplorativa finalizzata a individuare sodalizi senza scopo di lucro che hanno interesse a ottenere incomodato le strutture logistiche. Così come previsto dal nostro programma e come già annunciato diverse volte, abbiamo pubblicato l'avviso esplorativo per le associazioni di volontariato per comprendere quali siano le necessità all'interno della nostra città dal punto di vista degli immobili, ovviamente riferito alle associazioni. Cioè noi chiediamo all'associazione di volontariato di dirci se hanno bisogno di immobili comunali, in una logica di collaborazione, di reciprocità. Per cui abbiamo fatto questo bando che scade il 30 settembre alle ore 12, che significa che tutti coloro che ritengono di avere bisogno di un immobile dovranno dichiararlo. Quando sarà terminato questo bando noi vedremo quali sono le domande che sono arrivate sulla base di queste richieste e poi faremo un bando vero e proprio per procedere all'assegnazione. Un fatto nuovo nella nostra città, un fatto bello, un fatto interessante che sancisce quanto prezioso sia il rapporto tra pubblico e mondo dell'associazionismo. Le associazioni che necessitano di supporto potranno richiederlo all'ufficio comunale, ai servizi sociali o avvalendosi della consulenza gratuita offerta ogni giovedì da un operatore del CSV Brindisi Lecce, volontariato nel Salento.